L'indice di diffusione del contagio è tornato sopra 1, quindi da domenica scatterà la zona arancione per la regione Emilia-Romagna, dopo la firma dell'ordinanza da parte del ministro Speranza. Preoccupa anche la diffusione delle cosiddette nuove varianti. Oggi a Piacenza 5 decessi e 60 nuovi contagiati per Covid. Domenica ricorre il triste anniversario, un anno esatto dallo scoppio della pandemia. I 12 mesi più difficili per il nostro territorio raccontati questa sera durante la nuova puntata di Nel Mirino, in onda alle 21 su Tele Libertà. Tra gli ospiti il presidente della regione Stefano Bonaccini e il direttore generale dell'azienda sanitaria Luca Baldino. Sarà inoltre presentato il libro, quella sottile linea rossa, in uscita con libertà da domani. Anche a Piacenza in azione truffatori senza scrupoli che utilizzano la scusa del coronavirus per provare a scucire soldi agli anziani. Misure anti contagio, nuova ordinanza del comune di Piacenza che fino al 30 aprile vieta di sedersi sulle scalinate pubbliche. Procede a rilento il cantiere per la ricostruzione del nuovo Ponte Lenzino in sostituzione di quello crollato a ottobre 2020. Siamo solo al 7%. Anas dà la colpa al maltempo e garantisce nuovi mezzi ma anche una revisione del progetto.